eccoci buongiorno benvenuti a tutti gli appassionati fans sostenitori del modo di essere del modo di fare all'italiana benvenuto al mio amico e socio riccardo della blanca di miami ciao e oggi è un piacere particolare per me perché ospitiamo un vicino di casa adesso poi lo specifichiamo meglio benvenuto andrea zimonti di roda ciao andrea buongiorno grazie di aver accettato l'invito di essere qua oggi grazie a voi dicevo vicino di casa perché entrambi siamo della provincia e in particolare della provincia di varese la provincia dei sette laghi cosiddetta e la storia di roda è proprio legata al lago più grande lago di varese e e alla natura che intorno al lago si sviluppa e raccontaci andrea che cosa fate e come siete sostanzialmente come come siete anche voi posso dire ispirati dal lago beh allora grazie innanzitutto l'introduzione non poteva essere più bella come hai detto tu realmente il tutto nasce dentro questo bellissimo territorio nel quale siamo che è fatto appunto dai sette laghi dalla città giardino come dico sempre dalla finestra in questo momento vedo il sacro monte che è un posto per certi versi magico e che invito tutti a visitare soprattutto in questo periodo veramente perché ha delle atmosfere dei colori che sono incredibili ehm l'azienda roda eh nasce ormai trent'anni fa proprio eh l'anno prossimo festeggeremo i trent'anni eh per iniziativa di una famiglia eh del territorio che la famiglia pompa tant'è vero che eroda tipicamente come tutte le aziende italiane che sono eh a condizione familiare sta proprio per le iniziali dei due genitori quindi Roberto e Rosario le iniziali e dei due figli Davide e Daniele eh Roberto in particolare eh già lavorava nel nel mondo dell'outdoor dell'arredo d'outdoor perché noi facciamo mobili per esterno eh prima come direttore commerciale estero eccetera e poi a un certo punto ha deciso insieme a sua moglie di fondare un'azienda eh questa azienda eh nella intuizione di Roberto e di Rosaria ehm aveva questo scopo mh i mobili per esterno diciamo erano i mobili di serie B se si può dire no nel senso che ai tempi quando uno doveva costruire casa prima pensava che ne so la cucina salotto alla alla camera da letto al bagno quando aveva finito tutti i soldi fondamentalmente c'era ma va c'ho pure il terrazzino no eccetera e quindi i mobili da esterno erano un po' lasciati in secondo piano quindi c'era in quel periodo c'era un po' l'evoluzione dei mobili da esterno in resina quindi la mitica resina bianca che probabilmente avete visto mentre invece loro hanno detto no il mobile da esterno proprio perché viviamo in questo territorio secondo noi in realtà eh appartengono totalmente all'arredo della casa e anzi addirittura possono essere l'esterno quindi non tanto il mobile ma l'ambiente esterno possono essere centrali perché eh molto spesso a noi piace vivere all'aria aperta giocare divertirci molto spesso veramente l'esterno no se ci pensate anche che sia giocare a pallone che sia andare a sciare che sia andare al mare eccetera è proprio eh molto dedicata allo stare bene eh nella vita no quindi loro hanno iniziato a sviluppare questa azienda sono andati in giro per il mondo a cercare i mobili da esterno più belli e li hanno iniziati a commercializzare eh come mi raccontano sempre nostra una delle prime fiere che loro fecero arrivarono con questa eh sedia no da cinquecentomila lire che ai tempi era una follia no e tutti a dire ma no ma voi siete pazzi in realtà eh a distanza di trent'anni possiamo dire che sono stati veramente dei precursori no sono stati veramente quel genio italiano capace di guardare oltre no eh perché perché poi in realtà eh adesso eh io lo dico sempre no quasi siamo più interessati ad arredare l'esterno piuttosto che arredare l'interno ma questa è stata una grandissima intuizione eh comunque e e credo che venga proprio dall'abitudine comunque a vivere il fuori eh in una maniera importante e chi vive sul lago eh e comunque in una natura più più pura più più importante sicuramente ha un'intuizione in questo senso che poi magari quelli di città eh ti copiano perché vogliono sentirsi anche loro anche loro in questi giorni in questi giorni posso immaginare che c'è anche una crescita perché per esempio qua negli Stati Uniti da New York da California si stanno spostando tantissima ma tantissima gente nelle seconde case perché hanno capito che adesso si possa lavorare da casa con il Zoom infatti il presidente di Oracle ha detto io me ne vado a Hawaii ci vediamo il mio team se ne va a Texas e non ti preoccupare che c'è Zoom allora è più chiaro ogni giorno che la gente ha capito c'è un cambio di delle 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 priorità e il vivere lo spazio è un momento non so se lo avete visto anche voi in Italia assolutamente sì io faccio sempre l'esempio no su Milano che per noi è una è la metropoli anche se poi di riferimento anche se poi in realtà quando vai in giro per il mondo ti rendi conto che Milano fondamentalmente con i suoi meno di due milioni di abitanti è forse la centesima città cinese e non ha nulla da paragonare con Londra Parigi New York eccetera no però Milano ad esempio fino a pochi anni fa costruivi dei palazzi che dedicavano molto poco spazio all'esterno oggi se tu costruisci un palazzo e ovviamente il bosco verticale è l'apoteosi da un punto di vista delle dell'esempio in realtà è l'elemento centrale proprio se ho la possibilità di vivere il fuori anche in una metropoli ok quindi assolutamente è una tendenza che noi riscontriamo proprio a 360 gradi e addirittura oggi se riesce a partire una tendenza da Milano sia poi una una tendenza che anche se se Milano è più piccola come numero di abitanti è infinitamente potente dal punto di vista influenza è un è un trendsetter possiamo dire no da questo punto di vista e infatti come anche diceva Riccardo oggi si vede che tantissime persone addirittura dicono piuttosto che abitare nell'interland milanese cioè nelle a proprio ridosso della città decidono di magari reinvestire nelle case appunto anche sul territorio di Varese eccetera perché a questo punto basta che è una connettività abbastanza buona fondamentalmente no perché è così bello vivere in un paesino tranquillo con la erba per me è una meraviglia sai che ti dico una cosa da ridere no la mia nonna è stato l'esempio la mia famiglia ma madre è andato al Venezuela tanti anni fa io sono andato in quel disastro là ma sempre andavo a in estate in Italia un giorno per per negozio vado con Gianluca a cercare un cliente nostro fila e ti ricordi quel mattino allora era molto presto e mi sono come oggi grigia con la nebbia e ero e dovevamo stare alle nove allora abbiamo parlato molto presto ma mi fa ridere perché quando apro la porta della macchina io gli dico Gianluca ma hai visto che bel profumo allora non sapevo cos'era aspetto aspetta era un paesino quando arriva il signore eh signor Pettenon e guarda che 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 bello i pensieri che mi vengono da Roma e sì c'è un bello un bello odore a merda perché hanno fatto del Veneto la natura ringogliosa di del lago ma ti dico la realtà anche io che vivo in una città a me per esempio andare vicino al campo e sentire quell'odore delle cose naturali delle secondo me è spettacolare e ti giuro più gente in questi giorni in questi anni stanno facendo un cambio di pensiero basta l'appartamento tutto sabbello ma è più simpatico stare più aperto e quello che dici tu dici 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 una cosa molto molto giusta e voglio chiedere anche ad andrea se ha la stessa sensibilità cioè oggi che stiamo passando un momento complicato in tutto il mondo e in italia forse in particolare è proprio credo ed è un po la ragione anche per cui facciamo questi incontri alla qui alla italiana è che la forza delle idee la creatività e la capacità di vedere prevedere così come hanno fatto i signori roberto rosario è un po una caratteristica tipica italiana ed è quella che probabilmente ci porterà oltre a questo momento così così complicato è un modo per immaginare un'italia tra qualche anno non parlo tra dieci o vent'anni ma tra qualche anno è proprio quella di rivedere un'italia che grazie alla ricchezza dei borghi ad esempio e dei paesi di provincia quelli che sono più aperti sul territorio ancora naturale possono diventare dei luoghi frequentati proprio per uno smart working anche internazionale di qualità perché poi qui alla fine in italia trovi la qualità del vivere la qualità dell'essere la qualità del bere del mangiare dello star bene e forse forse il pensare agli arredi da giardino gli arredi da esterno oggi ha una grande opportunità di sviluppo anche se oggi in questo preciso momento ci sono magari pochi soldi al mondo Gianluca ma non soltanto in italia al mondo tu vai il problema è questo che dobbiamo aprire gli occhi agli italiani quando tu vai al mondo e tu dici questo non so mobile è italiano costa di più subito subito puoi prendere di più è così perché l'italiano anche sia una cosa molto semplice ma molto semplice no ma è italiano ah ok allora ho capito e subito come che sanno di più e valgono di più periodo confermo totalmente nel senso che in questo veramente anche la vostra iniziativa è proprio bella no nel senso che perché perché gli danno più valore no perché realmente quando nel mondo pensano italiano pensano al nostro modo di vivere al nostro modo di mangiare al nostro modo di vestire al nostro modo di essere di anche eh relazionarci no eh classe buon gusto figo sai è top è la realtà siamo chiari confermo totalmente ma sai una cosa gli italiani non lo sanno non so perché perché continuano a dire eh non se la faccio più non è possibile basta ragazzi aprite gli occhi al mondo siamo incredibili guarda totalmente nel senso che eh mi è capitato siccome abbiamo fatto eh tra i nostri clienti che abbiamo avuto l'onore di poter fornire dei mobili per costa crociere che ha fatto una nuova nave che ha appena lanciato l'anno scorso e eh è stato ingaggiato un designer di New York ad Amtiani per poter raccontare la storia di questa nave no che era tutta dedicata all'italianità ed è stato bellissimo quando lui ha fatto la presentazione perché ha fatto vedere come all'estero ci vedono e come noi italiani ci percepiamo no allora la tematica era slide eh come ci vedono all'estero mh tutti eh il paesino no belli sereni eccetera come vedono gli italiani traffico eh code tutte queste cose qua no piuttosto che invece il cibo come ci vedono ci vedono che veramente noi praticamente tutti i giorni mangiamo delle cose eccezionali no invece noi italiani da questo punto di vista non so perché siamo un po' masochisti probabilmente non non lo so dire ma fondamentalmente abbassiamo sempre questo livello no e invece no cavolo abbiamo una capacità abbiamo una culto anche una cultura no come si dice sempre il 60 per cento dei patrimoni culturali sono in una nazione che oggi rappresenta forse meno dell'un per cento del territorio mondiale no noi viviamo nel bello noi siamo cresciuti nel bello noi siamo cresciuti nel ben fatto siamo eh millo così chiaro che la gente è vero è vero è quello che diciamo sempre qua Andrea proprio quello proprio che il fatto di nascere crescere circondati dalla bellezza immersi nella cultura eh circondati da una storia che è passata ma è anche viva e può essere il futuro diventa esattamente quella la molla che ci porta oltre le difficoltà le 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 varie maglie e non è giusto e non è giusto che con quel vantaggio lì esatto gli italiani rimangano a piangere non posso no non è giusto abbiamo un vantaggio bestiale dobbiamo andare avanti prima se ho capito bene hai detto una cosa bellissima perché è molto tipica eh di quella che qua in Italia si chiama la PMI no la piccola media impresa che poi media raggiunge dei livelli di fatturato che non sono propriamente eh medi ehm cioè che per dare il nome a Roda alla fine Roberto Rosaria Davide e Alberto Daniele no Daniele da da hanno hanno preso le loro iniziali e le hanno messe dentro l'azienda che vuol dire mettere se stessi mettere assolutamente ma Andrea invece Andrea invece arriva come dico sempre io invece sono figlio di un fruttivendolo ok quindi anche lì sono cresciuto con mezzo alla natura e mezzo alla natura e tra l'altro sono stato molto fortunato perché in realtà mangiavo le arance più buone del mondo quelle siciliane piuttosto che eh avevo la possibilità di provare tante cose poi io ho fatto un percorso professionale prima di studio in economia poi professionale in diverse aziende fino a che tredici anni fa sono arrivato in questa azienda come manager perché la famiglia ha avuto anche lì la capacità di intuire che erano arrivati a un livello per cui non bastavano più loro ma avevano bisogno di strutturarsi io sono entrato come manager poi eh negli anni mi sono talmente appassionato a questa avventura perché io la chiamo così no e per cui mi sono veramente coinvolto tantissimo in particolare con Davide e Daniele tutti noi abbiamo bene o male tra intorno ai quarantacinque anni eh ormai siamo arrivati a un punto dove conduciamo l'azienda assieme loro mi hanno mh accolto di fondo nella loro famiglia perché mi hanno dato una quota della società quindi oggi eh sono anche socio di Roda che è un'eccezione per certi versi nelle PM italiane assolutamente come dicevi tu no fondamentalmente è accettare un terzo nella propria famiglia loro da questo punto di vista sono stati secondo me illuminati nuovamente un'altra volta perché realmente eh per poter crescere oggi nella complessità del mercato del mondo eccetera capire che forse ti puoi far aiutare da qualcuno questa è una cosa veramente secondo me stravincente no oggi penso che un elemento fondamentale sia proprio quello di aprirsi dialogare confrontarsi con altri entrare in relazione porre tante domande anche no e dire anche magari io su questo non ci arrivo piuttosto che ho paura di quest'altra cosa qua no perché realmente così all'italiana no perché poi noi ci mettiamo dentro tutta quella che è la nostra essere latino eccetera eh veramente abbiamo la possibilità di ottenere un bel risultato che è quello che sta avvenendo poi nella nostra azienda Andrea quello che dice è tanto vero che una cosa è quello che diciamo che abbiamo un vantaggio e che bello Italia una cosa l'altra un'altra cosa che dobbiamo anche fare è fare i compiti non si può fare la gerenza come si faceva trenta mille anni fa cioè dobbiamo gli americani in quel senso lì sono molto furbi allora cento per cento americani e tedeschi sì è vero allora è importante che 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 guardano la fotografia più grande non ma ma l'Italia è fatto un po in quel modo lì che secondo me come ti dico dobbiamo se vogliamo fare una cosa in grande dobbiamo fare un cambio in quella mentalità e come dici tu io preferisco invece del cento per cento ne ho il settanta per cento ma adesso non sono soltanto all'Italia sono tutto il mondo è una cosa molte essere meno percentaggio è una cosa bestiale guarda questo sposi totalmente la mia idea no anche rispetto proprio a una possibilità per la nostra nazione per le nostre imprese nel senso che molto spesso purtroppo non so se mi sembra di averlo sentito in uno dei vostri podcast che un ospite diceva noi italiani siamo più orientati a provare invidia piuttosto che a provare imitazione no mi ha colpito veramente tantissimo perché ma ad esempio nel nostro mondo quello dell'arredo noi facciamo il sonno del mobile e praticamente si è lì a dire quanti metri quadri c'hai tu quanti metri quadri c'ha lui no eccetera perdendo di vista un fattore fondamentale io posso fare venti cinquanta cento milioni no che magari sembrano anche tanti ma io quello lo dico sempre ma ragazzi ma lo sapete che la più piccola azienda di arredo americana fa magari due miliardi allora cosa facciamo siamo qua a litigare per fare un milione in più io un milione in più e via di seguito o andiamo a prenderci insieme quei due miliardi questo penso che sia veramente la sfida che dobbiamo riuscire a intraprendere e vi assicuro che un'iniziativa come la vostra ma così come tante altre di mettere relazione le persone cioè di aiutarle a conoscersi a scambiarsi opinioni eccetera sia il fattore come dire chiave per poter arrivare a prendersi quei due miliardi perché il mondo è grandissimo tutti vogliono l'italia tutti 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 andiamo a prenderselo assieme come dicevi tu no preferisco il cinquanta per cento ma di due miliardi piuttosto che il cento per cento di sai cosa sai cosa vogliamo fare Gianluca per per dare più credibilità e come la questa idea di Andrea adesso mi metto a cercare delle americani ma grossi americani che fanno un video e che è un'entrevista piccola che soltanto dice cosa vuol dire per te un italiano e abbiamo dieci o venti ragazzi in perfetto inglese che così gli italiani ascoltano cazzo siamo intellizzati siamo una cosa spettacolare andiamo a vendere Andrea hai detto una cosa che qualche tempo fa mi ha detto in termini un po più crudi perché lui è un po più crudo un amico che mi piacerebbe domani portare qui alla italiana mi diceva sai vivo a Londra perché mi occupo di finanza e sono andato a Londra perché mi sono reso conto dopo tanti anni di lavoro che lavorare nel mercato italiano mi ha reso aggressivo mi ha reso anche un po cattivo perché volevo avere il dieci per cento del mercato italiano poi un giorno sono andato a Londra e quel mio sentirmi squalo in Italia mi ha fatto sentire branzino a Londra e questa cosa mi ha sempre fatto ridere molto perché a volte veramente sprechiamo una quantità di energie impressionanti per avere una fetta di mercato o di credibilità in un ambito ristretto per quanto importantissimo perché è il nostro e poi in determinati mercati ci permette di avere lo slancio il trampolino per andare all'estero e invece rimaniamo concentrati sul trampolino come se poi il salto non lo facessimo mai no roda invece questo è un salto che ha fatto che ha fatto da tempo diciamo roda è un salto che sta facendo ancora in qualche modo stiamo facendo perché uno dei passaggi fondamentali io lo dico sempre allora a me piacerò da tantissimo perché noi facciamo un prodotto no a me piace noi creiamo una sedia un divano un tavolo eccetera quindi vediamo proprio la realizzazione una delle caratteristiche italiane da questo punto di vista siamo stati invidiati da tutti siamo invidiati da tutti noi abbiamo avuto l'ossessione per il prodotto ok facciamo i furniture più bello del mondo facciamo il food più buono del mondo facciamo il fashion più bello del mondo facciamo i vini più buoni del mondo perché perché veramente poiché siamo nati in questo territorio quindi sommersi dalla bellezza no cioè noi se vediamo un quadro cioè o è un che ne so un michelangelo o se no ma non lo guardo neanche perché ok cioè abbiamo questa ossessione per la perfezione del prodotto il passaggio invece è proprio il passare da questa ossessione a dire io faccio bene i prodotti poiché li faccio bene a questo punto mi apro a far sì che i miei prodotti possono essere il più possibile usufruiti da tutti no in questo mi dispiace dirlo ma la realtà è così no quando richi diceva gli americani sono più furbi gli americani tedeschi sono più furbi perché loro fanno mcdonald e lo vendono in giro per tutto il mondo fanno starbucks quindi il caffè che l'abbiamo inventato noi e lo vendono in tutto il mondo allora noi italiani dovremmo come dire avere un po l'umiltà è stato bello quello che diceva richi prima no fare i compiti cioè di dire siccome siamo bravissimi a fare i prodotti facciamo i compiti capiamo come far sì che al posto di fare la catena mcdonald facciamo i prodotti all'italiana e li vendiamo in giro per tutto il mondo si capisce andrea sai sai quando hai parlato del caffè io ho un'obsessione che qualche giorno lo farò che qua in italia se noi facciamo un caffè italiano 100% ma anche che la gente non parla inglese parlo italiano se tu vai lì devi capire come dico per il caffè ma è bello le 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 magazine sono in italiano la tv la nostra italiana ti giuro sarà un successo perché qua quando io sono arrivato non so 13 14 anni fa il caffè era come come diceva uno sull'aereo c'era uno dall'italia che passava quel caffè diciamo acqua sporca acqua sporca sai e la realtà è acqua sporca quella merda lì non so come fanno a bevere quella fare ma ogni tanto anche starbucks adesso fa il macchiato dopo macchiato è incredibile come è ogni volta che c'è un posto che fa i panini a prima guarda i panini prima era così di pane un pezzettino schifoso di salame è un disastro ma adesso i panini li fanno bene certo assolutamente uno una ossessione mia quando andavo quando vado sempre in italia io mi sempre mi fermo in auto grill che da quel momento che arrivi l'odore il caffè è una meraviglia ma anche le ultime volte non è stato così buono sa quello che ti voglio dire che secondo me fare le cose alla italiana ben fatte in un posto come america e come tanti altri sarebbe un successo io invito a tutta la gente che mi ruba l'idea di venire qua all'america e prendere dei posti non un posto spettacolo un posto vecchio perché deve essere anche come naturale originale certo portati un italiano vero fare il caffè che non parla nulla inglese arriva la cosa quasi ma e ti parla come l'italiano ma qualche caffè americano non c'è americano così ti giuro l'esperienza la gente avrà una coda di gente per andare dentro perché portare veramente l'italia lì è come un piccolino embassy dell'italia arrivi lì tutto un italiano rai qua bellissimo sono d'accordo no no sono d'accordo totalmente la questione infatti l'hai detto bene no bisogna diventare un po anche ambasciatori di questo all'italiano no cioè dobbiamo diventare bravi anche a raccontarlo sì e non dobbiamo e non dobbiamo fare l'italiano in america no 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 italiano puro vero c'è zero ma non so neanche come si dice yes nulla si dice sì no e sarebbe bellissimo ti giuro dei tanti stranieri con i quali hai a che fare dal punto di vista lavorativo dal punto di vista personale secondo te esiste un popolo una nazione che apprezza maggiormente delle altre il prodotto italiano cioè come lo fa l'italiano poi cioè dicevi mi piace perché facciamo il tavolo il divano la sedia quindi hai anche una parte produttiva di design sicuramente di pensiero poi una parte produttiva chi è che apprezza in maniera particolare quel modo ma allora guarda ti racconto ovviamente ad esempio i dati di roda noi il nostro mercato principale al pari degli stati uniti è la svizzera piuttosto che la francia è il primo acquirente la francia e stiamo parlando che loro hanno lo champagne sono un po snob con gli italiani la francia è uno dei primi acquirenti di prodotti italiani al mondo la germania lo stessa cosa no parlavo un po di tempo fa con un designer in brasile mi diceva quello che diceva prima rì cioè basta che tu dici mobile italiano basta già finita la questione nel mondo degli emirati la stessa cosa noi esportiamo in in australia in giappone in asia eccetera e siamo una piccola realtà oggi operiamo in quasi più di 50 paesi nel mondo no quindi se ti dovessi dire molto probabilmente dovremmo ribaltare la domanda chi non vuole vivere come fanno gli italiani c'è cento per cento e ti voglio dire un'altra cosa andrea secondo me il modo di andare avanti non deve essere andare a litigare e la competenza nei prodotti più bassi no lascia perdere quella fare lì noi siamo la qualità lo bello lo ben fatto e in quel modo lì abbiamo un miglior margine la nostra gente amici italiani avranno una miglior vita e alla fine non ti preoccupare che c'è il margine perché il made in italy grazie a dio ci porta un altro prezzo perché c'è un'alta qualità periodo quello che secondo me sarebbe ti aggiungo ti aggiungo solo una cosa no che io dico sempre perché è vero ovviamente il nostro costo del lavoro è molto alto tutte queste cose eccetera noi siamo 60 milioni di operativi in italia 25 milioni ok noi in 25 milioni di persone che lavorano facciamo uno dei pil maggiore a livello mondiale ragazzi se fate un confronto ma noi siamo molto più produttivi dei cinesi ok quindi in realtà ve lo assicuro perché ad esempio anche come roda noi stiamo investendo sempre di più su una produzione italiana non è così vero che non siamo in grado anche di fare dei prodotti con dei prezzi corretti diciamo così non ovviamente l'holocaust ma dei prezzi corretti no il primo produttore di il primo fornitore di mobili Ikea è l'Italia ok uno non lo sa no ma in realtà è l'Italia esportiamo più di un miliardo e mezzo di euro di fatturato verso Ikea allora c'è tutti questi punti di forza qua che ahimè purtroppo nessuno più dice no perché in realtà invece noi è no l'Italia non funziona no così no cosa no facciamogli riemergere cioè dobbiamo sentirci veramente orgogliosi di quello che siamo no poi facciamo i compiti cioè impariamo anche come far a comunicare ad esportare questo nostro essere italiano io credo che su questa affermazione noi dobbiamo chiudere l'intervista di più non si può dire cioè qualunque cosa andiamo oltre a dire no e dobbiamo fare un'altra cosa decimo da oggi in avanti dobbiamo mettere anche Andrea qua nel nostro panel come uno fisso perché un altro come noi che mi amo l'Italia e siamo chiari che dobbiamo spingere altri la seconda la seconda edizione del video podcast avrà altri ospite a turno che intervista un altro ospite esattamente facciamo il collegamento e poi c'è un caffè comunque aggiungere solo una cosa che veramente per me è importante perché lo sto vedendo tanto no una un elemento di grande speranza che io ho per l'Italia sono veramente i nostri giovani perché io penso che realmente loro vuoi perché sono nati un po più nella crisi vuoi perché sono tanti veramente hanno molte meno resistenze di quelle che io ho 46 anni quindi un po mi sento addosso un certo tipo di cultura eccetera no loro invece secondo me hanno proprio questo desiderio di poter esportare quello che abbiamo detto noi oggi no ce l'hanno in modo naturale e anche loro con partecipano alle bellezza dell'essere italiano quindi veramente se dovessi dirvi anzi facciamo anche la l'edizione all'italiana new generation o bellissima perché hai detto una cosa veramente molto importante Andrea perché se se prendiamo qualsiasi giornale qualsiasi televisione che parla dell'Italia parla dei suoi giovani parla di disoccupati nella maggior parte dei casi fuga di cervelli di quelli bravi che sembra che in Italia vanno vanno via perché in realtà noi abbiamo scoperto durante questi podcast che l'Italia è un punto di aggregazione cioè attira gente dall'esterno che viene qui a studiare quello che nel suo paese non può avere e acquisisce quel modo di essere quel modo di fare che poi lo rendono italiano automaticamente Ricchi abbiamo appena appena ospitato Petru un giovane proprio così Moldavo che più italiano di lui non c'è nessuno cioè alla fine ha proprio centrato la visione quell'approccio sociale quel modo di essere empatico anche nel business proprio che è made in Italy puro quindi tutto questo discredito che anche viene raccontato dal mainstream sui giovani il più delle volte non è vero perché i nostri giovani tanti hanno veramente voglia di fare voglia di studiare e io vedo una cosa avendo dei figli giovani ma ormai proiettati al mondo del lavoro vedo loro e i loro amici quindi panel abbastanza ampio di ragazzi che a differenza di quello che abbiamo fatto noi hanno il coraggio di sognare cioè credono alla loro idea stanno nella loro idea e ci provano tutti i modi a portarla a casa mentre invece noi forse siamo stati più utilitaristi no un po più materiali abbiamo scelto quello facciamo più rumore su quelle persone belle facciamo rumore con quelle persone belle la gente deve sentire queste cose positive non conta se soltanto parla uno il negativo alla fine ti credi con le storie lì dobbiamo andare avanti Andrea è stato un piacere grandissimo sei pronto per la seconda edizione dove sei con noi qua assolutamente sì ho avuto un quattore di positività ti ringrazio davvero grazie caro grazie a voi grazie a voi grazie a voi ciao ciao ciao